Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, bentornate, se già mi conoscete, benvenute se siete nuove, io sono Giulia Polcini e oggi parliamo di capelli. Chi mi segue da tanto sa quanto io tenga alla mia pelle e ai miei capelli, chi non mi segue sappiate che per me le due cose fondamentali sono la pelle e i capelli. Molto spesso ultimamente mi viene chiesto che prodotti utilizzo per i miei capelli, come li mantengo sani, belli, luminosi e soprattutto mi viene chiesto come mai mi crescono così velocemente perché chi mi segue da tempo sa che all'inizio quando ho aperto il canale YouTube avevo i capelli molto corti e rovinati e facevo una fatica tremenda a farli crescere mentre nell'ultimo periodo i miei capelli sono luminosi e crescono sempre più in fretta. Sul canale già online una hair care routine, dovrei farne una giornata, quindi se vi può interessare ditemelo in ogni caso, trovate sul canale appunto la hair care routine che avevo girato se volete vedere un po' quali sono i prodotti che utilizzo per i miei capelli. Ma oggi voglio parlarvi di un prodotto che sto provando da più o meno una settimana e ci tengo a dirvi che questo video è gentilmente sponsorizzato dal brand ma io vi racconto la mia esperienza e prima di tutto sono stata io a provare il prodotto, quindi ho fatto un po' la cavia per testare questo prodotto e vi racconto appunto la mia esperienza onesta. Prima di iniziare a parlarvi appunto del prodotto, vi ricordo se non siete scritte che mi farebbe davvero tantissimo piacere avervi parte della mia community quindi qui sotto trovate il tasto per iscrivervi e se non volete perdervi tutte le mie recensioni e seguirmi durante le mie giornate e di seguirmi anche su Instagram dove vi porto sempre con me in stories. Allora direi di iniziare, prima di tutto vi mostro il prodotto e dopo vi spiego meglio come funziona, cos'è, come si utilizza e quali sono i suoi benefici. Il prodotto è questo qua del brand Kera Health, sono delle capsule supplemento per i capelli che aiutano a farli crescere più velocemente e aiutano a ridurre la perdita del capello. La prima cosa che ci tengo a dirvi è che questo non è un farmaco, assolutamente e ci tengo anche a dirvi che contiene solamente prodotti naturali, quindi non avrete, non c'è pericolo di avere degli effetti collaterali. In ogni caso se volete essere sicure di poter assumere queste capsule io vi consiglio di consultarvi con il medico o comunque di leggere gli ingredienti in modo che se c'è qualche ingrediente a cui magari avete intolleranza o allergie lo potete sapere prima. Quindi di cosa si tratta? Si tratta di 60 capsule, qui dentro ci sono appunto 60 capsule che vi dureranno un mese e praticamente queste capsule di cui ne assumete due al giorno aiuteranno a ridurre la perdita dei capelli, vi aiuteranno a mantenere i capelli più luminosi e vi aiuteranno appunto a farli crescere più in fretta. E immagino già che voi vi stiate chiedendo, ma funziona? Allora, prima di spiegarvi cosa contiene tutte queste cose un pochino più professionali, vi dico che io la prima volta che mi sono lavata i capelli dopo averne assunte più o meno 6 o 7 perché erano 2 o 3 giorni sono rimasta veramente stupita perché solitamente quando io lavo i capelli mi trovo delle ciocche intere che rimangono nel lavandino soprattutto quando vado ad asciugarli. Sono rimasta veramente colpita perché si era ridotta tantissimo la caduta dei capelli. Ho poi continuato ad assumere le pillole quotidianamente e devo dire che funziona veramente tanto. non posso farvi sapere già per quanto riguarda la crescita dei capelli, nel senso che lo sto utilizzando da una settimana e ovvio che non è che possono crescere i capelli in una settimana tantissimo, ma per quanto riguarda la perdita dei capelli che per me è la cosa più importante, devo dire che mi ha aiutato particolarmente. Dovete sapere che io ho i capelli molto sottili e molto fragili, quindi ho sempre avuto un problema di perdita dei capelli e devo dire che questo prodotto è veramente utile e un tocca sana per i miei capelli. Questo prodotto, come vedete, è pensato per le donne, ma sul sito potete trovare anche un prodotto pensato per gli uomini. La caduta dei capelli solitamente è un fenomeno più frequente negli uomini, ma noi donne non lasciamo mai stare i nostri capelli e in questo modo tendiamo a rovinarli. Se pensate a permanenti, tinte, la piastra, immagino che tantissimi di voi piastrano i capelli, io ho imparato a non piastrarli quasi mai e devo dire che veramente anche quello conta, ma se voi volete fare tanti trattamenti, avere i capelli perfetti, usare le piastre, fare lisci, ricci, quando volete, sappiate che vi conviene utilizzare un prodotto come questo in modo da poter essere più liberi nel vostro styling ma poter comunque avere dei capelli sani che non caschino e che non si spezzino, insomma, che diventano un po' più forti. Prima di entrare nello specifico per quanto riguarda ciò che è contenuto all'interno di queste capsule, vi dico subito che la loro efficacia è stata provata in laboratorio, scientificamente provata, con parecchi test di vario tipo su dei capelli per vedere appunto se queste capsule veramente fossero efficaci e questo le rende un prodotto davvero ottimo perché appunto è testato che questo prodotto funzioni. Allora vi parlo un po' di quello che contiene, come vi ho detto contiene solamente prodotti naturali, al suo interno ci sono 18 aminoacidi tra cui c'è la cheratina naturale, come sapete la cheratina è uno degli ingredienti fondamentali per i nostri capelli, senza quelli i nostri capelli non sono assolutamente sani, belli, lucenti e inoltre al suo interno contiene 5 vitamine, tra cui le vitamine B3, B5 e B6 se non sbaglio, che sono fondamentali per i capelli. Perché vi parlo di vitamine? Perché anche l'alimentazione sana può incidere sui nostri capelli, ma sono sicura che non per tutti sia facile seguire un'alimentazione sana, io sono la prima a non riuscirci e quindi bisogna riuscire ad assumere quelle vitamine che il nostro corpo non assume tramite il cibo in qualche altro modo e la vitamina B, in particolare B3, B5 e B6 è importantissima per i nostri capelli. Queste capsule, non vi ho neanche fatto vedere ancora la scatola, contengono appunto 5 vitamine, contengono inoltre due minerali, il rame e lo zinco, anche questi fondamentali per i nostri capelli e contengono anche due antiossidanti, quindi tutte queste cose messe insieme rendono questo prodotto perfetto per i nostri capelli. Vi mostro come si presenta una capsula. Come vedete, o forse non lo vedete, io ne ho utilizzato poco meno di metà, perché queste durano un mese, io le ho utilizzate diciamo una decina di giorni, non di più, non di meno, e queste qua sono le pillole, ve ne faccio vedere una, capsule, pillole, è bruttissimo. Questa qua è la capsula, ne dovete assumere due al giorno, le potete assumere durante i passi, o meglio, è meglio assumerle durante i passi, potete assumerle due in un corpo, quindi una dietro l'altra, oppure, come faccio io perché preferisco, ne assumo una durante il pranzo e una durante la cena, mi trovo meglio così, ma se voi preferite assumerne due contemporaneamente, potete farlo assolutamente. All'interno hanno questa polverina, non so se riuscite a percepire, e sono completamente senza gusto, quindi per qualsiasi persona che abbia paura che il gusto non piace, che sia fastidioso, che qualsiasi cosa, no, non hanno gusto, le potete mandare giù con un po' d'acqua, ne basta davvero pochissima, perché poi non è che sono così grandi, le mandate giù in un attimo, non vi accorgete di nulla e i vostri capelli invece si accorgeranno tantissimo del bene che gli state facendo. Direttamente dal sito di Cara Health voglio leggervi alcune statistiche. Allora, il 100% ha visto un aumento di anagen, ossia la fase di crescita dei capelli dopo tre mesi, il 92% ha sperimentato una perdita di capelli inferiore solo dopo un mese di assunzione, il 96% ha osservato un miglioramento e guarda la luminosità dei capelli dopo tre mesi, e sono stati fatti appunto anche degli studi clinici. Vi leggo anche un'altra cosa per chi è adatto. Allora, è adatto se soffrite di perdita dei capelli. La perdita dei capelli penso che più o meno tutti ne soffriamo, perché ci sono tantissimi fattori che possono aumentare la nostra perdita dei capelli, come anche solo le stagioni. L'autunno e la primavera, se non sbaglio, sono quelle in cui si perdono più capelli, ma anche l'estate-inverno. Inoltre, anche alcuni periodi di stress possono causare un aumento della perdita dei capelli. Tra l'altro, io ricordo, quando ho dato l'ultima sessione di esami, ne ho dati tipo otto in due mesi, perdevo tantissimi capelli. Questo era dovuto appunto allo stress, e ho dovuto trovare qualcosa appunto che mi aiutasse in questo senso, e che era help se l'avessi avuto probabilmente quando ho finito gli esami, sarebbe stato veramente utile per i miei capelli. Poi, è adatto se state sperimentando un diradamento dei capelli, se soffrite di perdita dei capelli dopo la gravidanza, quindi se avete fatto riso, c'è caso che perdiate più capelli, potete utilizzarlo anche se volete avere i capelli più forti. Una cosa che servirebbe a fare effettivamente. Ora guarderò se i capelli sembrano più forti. Inoltre, può ridurre l'invecchiamento cellulare e prevenire la perdita dei capelli in futura. Quindi, anche se non perdete una quantità eccessiva di capelli, sappiate che è sempre meglio prevenire che curare. Quindi, Cara Health può aiutarvi anche a non perderne in quantità industriali. Detto questo, io continuerò ad utilizzare le capsule Cara Health. Terminerò questa scatola e andrò a valutare se ordinarne un'altra. Quello che penso per il momento è che questo prodotto sia veramente efficace. Noto anche che in questo periodo molte ragazze mi stanno chiedendo riguardo ai miei capelli. Questo proprio perché sono più luminosi, più sani, crescono in fretta e si vede che sono visibilmente più sani. Vi lascio comunque giù in info box il link per andare ad acquistare questo prodotto. E se volete, il link che vi lascio per acquistarlo, potete anche navigare un po' sul sito per approfondire un po' quello che io vi ho detto oggi. Potete scegliere di acquistare un solo trattamento e costa 59,99 se non sbaglio, ma adesso controllo. Allora, se lo scegliete in abbonamento, vi costerà 59,99 euro e immagino che vi arriverà una confezione al mese. Potete poi scegliere quando desidero il vostro abbonamento. Se lo volete acquistare una sola volta, invece, vi costa 69,99 euro. Quindi vi conviene fare l'abbonamento. Potete provarlo e dopo decidete se continuare l'abbonamento. Se invece volete già acquistare tre pacchetti, quindi per tre mesi, che è quello che consiglia il brand, quindi di effettuare un trattamento di tre mesi, il prezzo è di 194,99 euro con spedizione gratuita. Nel sito che vi lascio giù in infobox trovate anche la parte dedicata all'uomo, il care health per uomo, che ha la stessa praticamente finalità e se siete uomini potete insomma andare ad acquistare quello appunto per gli uomini. Stesso discorso, stessi prezzi. Potete acquistarlo in abbonamento una sola volta o per tre mesi. Per quanto riguarda alcune domande che ho trovato anche nel sito, non contiene droghe, non contiene sostanze che creano dipendenza, non contiene latticini per chi dovesse essere intollerante, non contiene derivanti del pesce perché la cheratina utilizzata dentro care health è presa dalla lana di pecora della Nuova Zelanda, quindi non contiene derivati del pesce, non contiene latticini, ve l'ho già detto. Insomma, sono prodotti che davvero si adattano a tantissime esigenze di tantissimi consumatori, quindi sicuramente si adatteranno anche alle vostre esigenze. Io rimango disponibile per qualsiasi domanda, lasciate giù nei commenti qualsiasi curiosità o domanda riguardo a questo trattamento, posso poi magari andare a chiedere direttamente al brand a nome vostro per poter avere una risposta. Come al solito vi ringrazio per aver visto questo video, io spero davvero che vi sia stato utile perché per me care health è stata una scoperta e quindi assolutamente vi consiglio di provarlo. Come al solito vi ricordo che più avanti vi farò sapere su Instagram tramite le Instagram Stories la situazione dei miei capelli, quindi quando avrò terminato questo trattamento come saranno i miei capelli, quindi seguitemi insomma anche lì. Direi che anche per oggi è tutto, io vi saluto, vi mando un grosso bacio, vi aspetto in un prossimo video. Ciao! Ciao!